E parto da qua per ringraziare Attilio per questo gratissimo invito a venire a Verona, le nostre radici. Forse con Diego abbiamo cominciato e finito con la stessa immagine proprio perché abbiamo le stesse radici. I nostri maestri ci hanno insegnato due cose, le radici e le ali. Le ali per volare a Pisa, per volare a Forlì, per volare a Cagliari, nella lontana Sardegna, per volare rimanendo anche a Verona. D'altro canto, come diceva Shakespeare, non esiste città al di fuori di queste mura. Valeva la pena di venire qui per sentire le due letture di Attilio, tutte quante, ma soprattutto quelle di Attilio. Quando ero specializzando e sentivo parlare Attilio, si capiva che lui aveva due marce in più. Ma vorrei ringraziare anche un altro maestro, Piero Chiamenti, col quale abbiamo condiviso tante cose quando ero a Verona, e anche quando sono andato in Sardegna, vista la sua vicinanza alla Sardegna. Perché vi parlo di questo argomento io? Perché sono stato scelto io? Ma forse perché me ne occupo da circa 15 anni, oltre 15 anni, e avevo addirittura organizzato questo convegno dove tra l'altro c'era Diego, a Firenze, dove c'erano degli specialisti di tutto il mondo. Non ho conflitti di interesse per questa mia chiacchierata. E questa è l'agenda della mia chiacchierata. Vorrebbe essere un salto in avanti verso il futuro, ma mi piacerebbe che fosse un salto in avanti verso il presente, perché le cose di cui sto parlando sono qualcosa di molto più tangibile, che si possono toccare. Dove siamo? Siamo qui, siamo al punto di inflessione. Siamo all'inizio di una grande evoluzione, siamo all'inizio di una grande rivoluzione. Evolution, revolution. Grazie più o meno alle discipline omiche del suffisso greco, ma che vuol dire tutto, cioè un approccio olistico, per andare a trattare il singolo individuo in maniera individualizzata, personalizzata e soprattutto per fare prevenzione nel singolo individuo, prima che ci sia il disastro, che i boi siano scappati. Qui vedete oltre un centinaio di discipline omiche, qui ce ne sono solo alcune, guardate questo titolo magnifico, Medicina individualizzata, From pre-womb to tomb, nemmeno dall'uomb, dal grebo materno, From pre-womb alla tomba. E ancora ci sono tante discipline omiche, ma abbiamo una sola salute. Ricordiamoci che la salute, la medicina, è un fatto esclusivamente individuale. Certo c'è la statistica, l'epidemiologia, ma cosa interessa ai genitori? Mio figlio, la mia bambina, Francesca, Daniela, e quello che ci hanno insegnato queste discipline è che persino questo colpo di scena, che i gemelli identici, il 100% del genoma, non sono identici, perché? Perché hanno un diverso epigenoma, dal greco epi, io gioco in casa, sto sopra vuol dire, sono più importante del genoma, ovviamente è centrionfata per le malattie monogeniche, monofattoriali, che però sono l'1-2%. E quindi i gemelli identici hanno un diverso acetiloma, metiloma, microbioma, funcoma, batteriofagoma, chimerismoma, citochinoma, metaboloma, addirittura tutte queste, oltre, ce ne sono una lista infinita, per essere ciò che noi siamo in condizioni di normalità, il fenoma, in condizioni di patologia, il disesoma. Noi abbiamo imparato questo, la medicina dell'intuizione, lo ricordavo ieri sera Attilio, ho avuto il privilegio di essere seduto alla destra del padre, quando eravamo in difficoltà, allora si andava a Psordino Gaburo, diceva una meningite tubercolare, ma com'è possibile? Nessuno aveva capito niente, no? Oggi siamo qui, evidence-based medicine, vedo che nonostante l'argomento c'è silenzio in sala, se sentite, sta scricchiolando la evidence-based medicine, probabilmente crollerà mentre io finisco di parlare, travolta da che cosa? Dalla precision medicine, non a caso il presidente Obama, pensate che negli Stati Uniti circa 4 milioni di persone vivevano grazie alla genomica, tre punti, non sono giochi di parole, meta-analysis is not everything, cioè la scienza, la medicina è andata avanti anche prima della meta-analisi, secondo, evidence-based medicine, but also medicine-based evidence, vi volete dire che uno che fa 40 anni in clinico deve essere schiavo di un diamante o di un cioccolatino che come una palla da ping-pong va di qua e di là, basta che uno studio sia pubblicato dopo e il cioccolatino passa di là. E ancora più importante, l'assenza di evidenza non è evidenza dell'assenza. E perché tutto questo è importante? Perché, raga, noi oggi facciamo questo, la medicina è dell'imprecisione, questo lavoro è già stato citato ieri. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo il secondo farmaco più venduto negli Stati Uniti, funziona in un paziente su 25. Cioè devo trattare 25 pazienti perché uno stia bene, ma gli altri 24 non è che gli arriva qualcosa che non va, di sufficienza anale acuta, di sufficienza epatica acuta, l'aumento degli endimi epatici, un eritema fisso da farmaci allo scroto, se è un maschio, a proposito di differenza di genere. E quindi noi oggi siamo qua. Poca precisione, poca accuratezza. Le discipline omiche ci portano qua. Eccellente precisione, eccellente accuratezza. Perché mi sono dovuto occupare di medicina di precisione? Perché da 15 anni mi occupo di metabolomica e microbiomica. A parte la prima file, le prime due file, chi è che sa cos'è la metabolomica, alti la mano. Beh, questo mi aiuta a divindualizzare la mia chiacchierata. Beh, ci sono cose complesse. Da latino, cumplexus, è diverso da complicato, cumpliche. Complicato si può dipanare come un tovagliolo, si può essere spiegato. Vedete? Non ho certamente tempo di entrare in tutto questo, medicina dei sistemi, delle reti tecnologiomiche. Big data, pronunciato orgogliosamente alla latina. Medicina di visualizzata. Sono andato a scomodare Aristotele. Il tutto non corrisponde alla somma delle parti. Cioè, uno più uno fa tre, anzi, uno più uno fa nove. Questo è un mio libro, è Long Seller, è stato tradotto in molte lingue. Questo, due mesi fa, è stato tradotto in greco. Questo è il mio nome in greco. Ho pensato a mio padre, che ha lavorato tanti anni qua. Qui c'è qualcuno in sala, che l'ho conosciuto molto da vicino. E sono stato costretto ad occuparmi di microbiomica. Why? Perché tutti i metaboliti dell'organismo parlano dell'impatto dei batteri nella nostra vita e nella nostra salute. Diego ha asfaltato la strada, la mia chiacchierata. L'impatto nella nostra health, l'inglese health vuol dire good health or bad health. E guardate qui queste parole nuove di cui i giovani devono occuparsi. Olo bionte, sembra una parolaccia, ma olo bionte sarai tu, casomai. Sociomicrobiologia batterica, antropologia batterica, addirittura evoluzione del cervello e batteri. Senti i batteri, alla nascita il cervello non cresce. Ci sono delle scatole craniche piccole, degli encefali piccoli, degli ipocampi piccoli, perché gli ipocampi sono le cellule staminali. Solo alcuni dei metaboliti prodotti dai batteri. Ce ne sono oltre 750 studiate su un magnifico articolo. Bene, Deming ha scritto noi crediamo in Dio, tutti gli altri, prego, portino dei dati. Io l'ho trasformato così. Crediamo in Dio, tutti gli altri, prego, portino big data, grandi quantità di dati. Big data, più l'intelligenza artificiale, cosa viene fuori? Artificial intuition. Cioè il black box medicine, la medicina della scatola nera. Quella non quando è caduto l'aereo, ma prima che cada l'aereo, per fare qualcosa alla prevenzione. E qualcuno ha aggiunto anche long data. Io non ho tempo, ma in radiologia e in oncologia, faccio esempio la radiologia, un ragazzotto israeliano, ha messo insieme un software 30 milioni di lastre che sono identiche come sensibilità e specificità ai tre migliori radiologi israeliani. Però in un anno e secondo possono dire quel paziente con quella lesione dove andrà a finire. Quale magnifico clinico può ricordare